In soltezza e senza neppure forzare più di tanto, la regina travolge con un secco 6-0 un Matera imbottito di ragazzini e conquista così la quinta vittoria nelle ultime sei giornate di campionato. Gara senza storia, quella andata in scena in terra lucana, c'era da aspettarselo, troppo netta la differenza tra gli Amaranto e i giovani della Berretti del Matera. Lo sopero proclamato dai calciatori bianca-azzurri ancora in attesa di percepire gli stipendi arretrati costringe infatti la società ad affidarsi ad un manipolo di ragazzini. Ne viene fuori un match impari, al Matera non basta infatti la buona volontà, i padroni di casa resistono 35 minuti appena, poi crollano, a dare la prima spallata al muro bianca-azzurro e ungaro e lui ad aprire le danze per l'ex Renate e il secondo gol in questo campionato per il Matera invece è l'inizio della fine. Sì perché nella ripresa la regina di Laga, gli ingressi di Franchini, Tulissi e Viola innalzano ancora di più il tasso tecnico degli Amaranto che nel secondo tempo ne segnano addirittura 5. Protagonista assoluto è Alessio Viola e suo il gol del 2 a 0. Ed è sempre Viola a siglare il 3 a 0 al minuto 65. Nel finale c'è spazio anche per il gol di Bonetto. Sul 4 a 0 la regina continua a spingere e in pieno recupero arrivano i gol di Tulissi e del solito Viola, autore di una tripletta per l'attaccante di Taurianova, sono le prime reti stagionali. A Matera dunque finisce 6 a 0 ma a sentire mister Cevoli oggi ha perso il calcio. Non riesco proprio a sorridere dopo questa vittoria le parole del tecnico della regina. Spero tanto che il Matera riesca a risolvere una volta per tutti i problemi perché vincere così non dà nessuna soddisfazione. Difficile dargli torto. Ribadisco il punteggio allora. Regina patte Matera 6 a 0 grazie a questa vittoria. Gli Amaranto volano al settimo posto a quota 26 in piena zona playoff.